quando tu fai questo, allora uno non devi fare questo è questo che va dritto alla pistola io vado dritto con la pistola non vado a cercare il buco dentro un'altro sicuramente devo cercare di mandare i volti condizioni possibili vado mini con il pupù io devo mirarlo grazie a tutti 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 pronto? vai bene grazie a tutti grazie a tutti Grazie. 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 Grazie.